Con il tempo di avvento riprendono le tende del mattino fuori dalle scuole modenesi. L'iniziativa, giunta al suo decennale, si aggiunge alle altre proposte della pastorale scolastica, come spiega il direttore Don Graziano Gavioli. Oggi le tende del mattino vengono fatte nei sabati di avvento e di quaresima davanti ai licei della città, sostanzialmente, davanti al Villigelmo, al Tassoni, al Muratore, al San Carlo, durante la settimana alla città dei ragazzi. Vengono fatte anche fuori città in alcune scuole della provincia e probabilmente, speriamo, inizieranno forse anche davanti al Barozzi. Le tende continuano ad essere un momento nel quale liberamente chi lo desidera si ferma per una preghiera e vorremmo aiutare studenti e professori a vivere con ancora più consapevolezza cristiana e a fidare al Signore la giornata che inizia e il cammino scolastico in generale. Abbiamo un bel percorso, nato tre anni fa, anche questo dà un'idea molto originale. L'abbiamo chiamato Bibbia per caffè perché proponiamo all'interno degli istituti di scuole secondarie della città un incontro a tema biblico per approfondire un libro della Bibbia o una tematica trasversale, comunque, alla Sacra Scrittura. Non pensavamo che portare la Bibbia dentro le scuole superiori avesse tanto successo, tanto gradimento ed è stato così. Quest'anno, per il terzo anno, abbiamo questo ciclo di incontri che interessa tutto l'anno scolastico, da ottobre fino a maggio. Nel mese di dicembre avremo un altro appuntamento di questo percorso di Bibbia per caffè, sarà il 17 di dicembre, dalle 14.30 alle 15.30. Veremo ospitati dall'Istituto Sacro Cuore in Viale Storchi. Il relatore sarà Don Federico Pigoni e parlerà del tema del lavoro nella Bibbia. Gli studenti partecipano, gli insegnanti partecipano, i numeri oscillano in base a quanto l'informazione riesce comunque a passare. Nelle prime tende solitamente non c'è la stessa partecipazione delle ultime a fine avvento, c'è sempre molta vergogna, ma del resto forse i ragazzi e gli stessi insegnanti imparano anche a non vergognarsi delle loro scelte, della loro identità. Questo non vuol dire imporla ad altri, ripeto, ma vuol dire vivere a fondo, vivere a pieno la propria identità e farla entrare nel tuo vissuto quotidiano. Insomma, del resto la fede ha molto da dire anche al percorso educativo scolastico. La Sacra Scrittura ha molto da dare alla cultura che noi nelle nostre scuole accogliamo e cerchiamo di diffondere.